Visita alla Treofan per Piero De Luca. Il deputato del Partito Democratico ha incontrato i lavoratori e compiuto un tour all'interno del complesso industriale, fermo da quando la multinazionale indiana Jindal ha rilevato la società mettendo a rischio il futuro degli oltre 70 operai. De Luca ha assicurato il massimo impegno per cercare di risolvere la questione, anche in vista dell'incontro che si terrà al Mise martedì prossimo alle ore 16. Mi ha colpito molto il giro e la visita che ho fatto qui, le chiacchierate, le discussioni con i dipendenti, con gli operai, la vicenda del paradossale e del surreale. C'è un'acquisizione da parte di un gruppo internazionale che invece di rilanciare una delle più importanti realtà del nostro paese la chiude senza alcuna motivazione apparente. Per cui davvero siamo senza parole, sono senza parole io, come tutte le rappresentanze sindacali e tutti gli operai. Ho raccolto l'invito cordiale che mi è stato fatto e sono qui da oggi impegnato in prima persona per provare a dare un contributo politico-istituzionale affinché questa avvertenza e questa vicenda possa avere un lieto fine e portare alla riapertura di uno stabilimento che è tra i più performanti di tutto il paese, sicuramente del mezzogiorno. C'è un incontro al Mise convocato la settimana prossima, proverò a partecipare io direttamente se possibile ma comunque a seguire immediatamente prima e dopo la vicenda per capire anche in stretto rapporto con le forze di governo che cosa è necessario mettere in campo per convincere la proprietà a riaprire questo stabilimento. Mi sa davvero che tutti gli elementi portano a capire e a immaginare che si tratti di una mera operazione di speculazione finanziaria e questo non è tollerabile soprattutto nel nostro territorio, nel nostro mezzogiorno quando c'è una realtà di eccellenza che vanno valorizzate. Qui peraltro in Regione Campania e nel territorio dell'area industriale di Battipaglia ci sarebbe la possibilità di utilizzare gli strumenti importanti, un accordo di programma già stipulato con la Regione Campania di 20 milioni di euro, le opportunità derivanti all'istituzione delle zone economiche speciali, quindi tutta una serie di misure e di incentivi che potrebbero consentire addirittura di rafforzare la produzione e ampliare gli stabilimenti industriali. Davvero non vedo ragione alcuna per la quale la Gindal, questa multinazionale debba penalizzare i lavoratori e tutta un'area industriale e tutta un'intera comunità che ovviamente su questo stabilimento industriale dà sostegno e respira a tante famiglie del territorio. Per cui io sono impegnato in prima persona, spero davvero di poter dare un mio personale contributo politico e istituzionale alla risoluzione di questa vicenda.